Pazzano ricorda oggi i cento anni dalla nascita del suo poeta, il poeta Giuseppe Conilio. La famiglia, Don Enzo, gli amici e i colleghi lo ricordano con questa bella serata. Abbiamo voluto fare il ricordo della nascita del poeta insieme alle istituzioni e insieme alle associazioni. Proprio come consulta delle associazioni di Pazzano riteniamo che questi momenti siano dei momenti essenziali per la vita della comunità. Perché vogliamo ricordarle? Perché vogliamo ricordare la sua nascita e non la sua morte? Perché per noi il poeta ancora vive. Noi facciamo un ricordo che ci aiuta per una possibile rinascita anche oggi. I nostri paesini così piccoli però hanno dentro dei valori che ancora custodiscono. E certamente la poesia di Conilio ci aiuta a rivedere alcuni momenti importanti della nostra storia per attuarli anche nell'oggi. Ci sono dei valori che non tramontano. La sua poesia trasforma la disperazione in speranza, la ribellione in ironia sottile e in serena filosofia, la routine quotidiana e la sciocca banalità con le sue debolezze e miserie in una divertente commedia della vita. Questa citazione di un nostro altro paesano ci dice la profondità appunto del poeta Conilio. Un poeta che parte dalla vita reale, la osserva, la comprende, riflette, mette a nudo le miserie ma coglie anche i germi di speranza. E la sua convinzione e la sua filosofia morale è stata proprio questa. Bisogna fare e dare tanto nella vita per ottenere anche una piccola cosa. E con questo mi sembra che sia attuale anche in questo nostro tempo. dare, fare, agire alla luce anche dei principi che abbiamo ricevuto e continuare a camminare. Qui, cominciate a conoscere meglio Beppe Conilio, c'erano tre cose. Un poeta che ha lasciato, diciamo, una strada da che noi dobbiamo seguire. Sia come amministrazione comunale, sia come cittadini di Pazzano. Ha lasciato, nella targa che gli ho donato, noi come amministrazione comunale, gli abbiamo iscritto queste parole. Solco sarebbe praticamente l'impronte che lui ha lasciato. Terzo, un segno tangibile del suo passaggio sulla terra. Una traccia, cioè significa che lui ha tracciato una via che noi come amministrazione e come cittadini di Pazzano dobbiamo seguire. Terzo, una vita, cioè significa un qualcosa che lui con la sua intuizione, con la sua vocazione, con la sua libera volontà di fare le cose, sempre nell'ambito cittadino era avanti anni luce rispetto a quello che si doveva fare. Cioè aveva delle intuizioni grandissime che poi si sono verificate nel lungo periodo. A noi ci ha insegnato tanto, ci ha fatto riscoprire il dialetto, tante parole che magari i giovani le dimenticano, ma lui ce li marcava, ci spiegava anche il significato. Quindi educava le persone alla lingua dialettale, perché giustamente i giovani oggi i dialetti non è che cercano di dimenticare. Allora una persona così indica la via alla strada per uno rimane sulle radici del proprio paese. Ci scambiavamo idee sul paese, discutevamo di letteratura, ricordo in una memorabile serata colpezzata in provincia, sopra Cariati. Un giorno di Santa Lucia lui ci direziò con una bella sequenza di poesia, una serata che ancora me la ricordo degli amici di quella zona. Giuseppe Coniglio mise lunghe e profondi e forti radici e succhiò dal seno della provvida madre terra gli alimenti per vivere. Rosa, tu mi ricordi i miei tempi giovani, l'antico amore, l'ombra del dormimento, che dopo con tuo cuore che consiento, coperte di finestra, rossa e blu, non gramofono e suba, che si sentia, che parlavano certo, ma io ho pianto un uomo. Con le proprie poesie, quei grandi valori di vita dove lui, da protagonista, dava esempio di saggenza, di bontà, di riconoscenza. Attento osservatore di un mondo che stava cambiando, dove l'uomo calpestava rispetto, buon senso e tradizione. Grazie chiaramente agli illustri ospiti che ci hanno regalato queste emozioni veramente profonde. È una brutta espressione adesso dire che mi fa piacere vedervi piangere, però mi ha inorgoglito sinceramente vedere con quanto calore avete ricordato il mio papà.